Fiano di Avellino ha immesso in commercio proprio da quest'anno due selezioni di Fiano una proveniente dal comune di Lapio che è questo dove ci troviamo adesso e un altro dal comune di Montefreda Lapio è uno dei miei più importanti per il Fiano Grape questo vineyard è circa 25 anni e in mio opinion è il perfetto age per ottenere la migliore frutta in termini di potenza, in termini di minerali, in termini di complessità ha un fai molto elegante, senti la frutta bianca come un apple è un vino minerale, un po' di grassi è un vino molto complesso in mio opinion è uno dei migliori italiani bianca se vuoi fare un vino molto buon bisogna lavorare in modo da fare la migliore e bisogna chiedere il proprio place dove vuoi avere i vini e i planti questo è davvero importante perché ogni ogni micro area dà una sensazione diversa e di avere i crezzi sono dei migliori italiani per la migliori italiani per 89 anni e di avere i prognosti ho scontriaret